Kane è idolatrato. I clan raccontano leggende su di lui, ma pochi sanno la verità. Una volta egli era mortale, come tutti noi. Il suo disprezzo per l'umanità lo portò a creare me e i miei fratelli. Io sono Reziel, il primo dei suoi luogotenenti. Ho servito Kane per un intero millennio. 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 Grazie a tutti.